ciao amici come state tutto bene oggi veramente mi vedete le poche volte in casa e tra un lavoro e l'altro tra le cose da stirare e lì c'è una piccola parte insomma è da mettere a posto e sono qui intanto perché mi riposo seconda cosa perché volevo ringraziarvi perché avete risposto ai miei suggerimenti di libri che potevo leggere mi avete mandato anche dei libri e questo insomma mi ha fatto molto piacere perché proprio con queste cose che mi avete mandato di libri che mi avete mandato ho potuto realizzare il prossimo appuntamento dedicato di nuovo alla recensione dei libri l'unica cosa è che martedì non saremo insieme proprio live dal vivo perché sì finalmente dopo non so se si vede ecco qua così finalmente dopo tre anni mi operano e vado a togliere questa piccola massa che ho sul gomito che inizia da neanche un po fastidio alla mano e questo succederà quando beh domani perché domani che domenica entrerò in ospedale mi opereranno lunedì mattina dovrò stare un paio di giorni quindi penso fino a martedì o mercoledì e per cui ecco perché non saremo insieme mai martedì mattina ma per soffrire alla nostra live in realtà come vedete sto preparando quella che è la recensione dei libri appunto come vi dicevo che i libri che mi avete mandato quindi intanto staremo comunque insieme nel frattempo mi invito ancora a mandarmi magari dei libri da recensire nel caso ne avesse iscritti come sempre potete iscrivermi a imhlb1.it anche magari per avere informazioni dove spedirmi il tutto altrimenti lo potete spedire in radio trs radio via sant'andrea 20 12 038 samigliano cuneo intanto vi aspetto vi auguro sicuramente una buona domenica la vostra sarà migliore della mia credo io sarò in una camera di ospedale per il resto ci vediamo live spero la settimana successiva ma martedì ricordatevi che arriva l'appuntamento con la recensione dei libri ciao alla prossima io continuo a lavorare e poi a tutto il resto che devo fare ciao